Via da domani è l'iscrizione a scuola per l'anno 2018-2019. La procedura è obbligatoria per tutti i genitori che devono iscrivere un figlio in una scuola statale. Deve essere effettuata online. Il termine ultimo per completare la procedura è il 6 febbraio. Il sito di riferimento è istruzione.it. Una volta ottenute le credenziali, per chi non avesse già un'identità SPID, sistema pubblico di identità digitale, si potrà iniziare la procedura di iscrizione. Prima cosa da fare è compilare una scheda contenente i dati anagrafici. Da qui sarà possibile visualizzare il riepilogo delle procedure e confermare eventualmente quanto inserito. Una volta registrati, basterà inoltrare il modulo online alla scuola, inserendo nella domanda di iscrizione tutte le informazioni richieste dalla procedura. La famiglia riceverà via email tutti gli aggiornamenti, fino alla conferma di accettazione finale. Sempre da domani, per i residenti a Como è inoltre possibile iscriversi ai servizi di ristorazione, pre-scuola e dopo scuola, per tutti i genitori dei minori che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia, primaria e di alcune scuole secondarie. Chi ha già provveduto negli anni scorsi non deve ripetere la procedura. La domanda di iscrizione potrà essere scaricata direttamente dal sito del Comune di Como, o recandosi presso l'ufficio del settore politiche scolastiche, in via Italia Libera 18A. Grazie.